Sono Gianluca Spina, buonasera, non assicuro, lo premetto, la calma, la conservazione della calma, perché sarà molto difficile in questo video. Vi faccio sentire un estratto della conferenza stampa del Presidente della Regione Veneto di ieri. Ascoltate quello che dice. È molto chiaro. Tanto quando noi abbiamo un paziente, c'è il primo carico dei dati che se è positivo o non è positivo. Quindi se è positivo diventa un paziente Covid. E questo è l'elemento di discussione che ormai è diventata discussione planetaria. In Italia si decide che un paziente in ospedale positivo diventa paziente Covid. In questa prima parte dice una cosa che sembra corretta. Dice che se in Italia le linee guida dicono che se un paziente entra in ospedale ed è positivo al Covid, è statisticamente un paziente Covid. Sentite cosa dice dopo. Poi magari è lì per altre patologie. Abbiamo fatto l'esempio della bimba piuttosto che dell'infartuato. Quindi il timbro di fabbrica te lo dà la positività. A quel punto il paziente, se nella sua evoluzione, nella sua malattia, ha negatività, resta comunque un paziente Covid per le statistiche e quindi se perde la vita andrà nella contabilità del paziente Covid che ha perso la vita. È un assurdo ma oggi si ragiona così. Se nel frattempo ha un'altra patologia e si negativizza la sua positività al Covid, per le statistiche resta Covid e dice, è assurdo ma è così. Andiamo avanti perché mica è finita. Però il paziente positivo asintomatico, che è tranquillo a casa, che è asintomatico in isolamento fiduciario, fa un infarto, mi entra in terapia intensiva, per me diventa un paziente Covid in terapia intensiva. che è esattamente un esempio che vi ho descritto, che esiste. È dura. Il paziente positivo asintomatico che sta a casa, gli viene un infarto, va in ospedale in terapia intensiva, quello è un paziente Covid in terapia intensiva. Andiamo avanti, non è finita eh. Ma guardate, allora, stiamo parlando, noi stiamo parlando dei numeri, quando i numeri sono veramente crudi, no? Questa riflessione che tu fai, è una riflessione di natura clinica, che nessuno sui numeri fa. Cioè noi non abbiamo la discriminante che c'è qualcuno che si prende la cartella clinica e dice sì, no, questa patologia l'ha sviluppata perché siamo stati positivi. Cioè guardate, il tema è uno solo, il tampone. Quando tu hai il tampone positivo all'inizio, la tua storia clinica ospedaliera diventa di paziente Covid. Purtroppo è sbagliato, però è così. I numeri sono numeri, noi prendiamo i numeri nella crudi come sono. Uso proprio i suoi termini. Per noi, uno che entra in ospedale ed è positivo, accada quel che accada, resta un paziente Covid. So che è sbagliato, ma è così. Allora, e qui spero di mantenere la calma appunto. Noi abbiamo chiuso un paese, messo al bando lavori, famiglie, salute, carcerata la gente dentro casa. Prodotto disastri. E tutto questo sta avvenendo su scala mondiale per una cosa che non è quella che hanno mai raccontato. E Zaya lo ha detto. È sbagliato, ma è così. Cioè io dico dove cazzo sta la magistratura? La magistratura davanti a questo mio video deve scattare perché esistono i reati procedibili d'ufficio. Qui abbiamo dei delinquenti seriali che agiscono in virtù di linee guida sbagliate, ammesse da loro stessi. Il loro errore, il loro stare nell'errore è ammesso da loro stessi e la magistratura dorme, dorme. Quando facevo il poliziotto, l'ispettore di polizia, mi ricordo che ricevetti un insegnamento importante da una vicenda. Quando una persona delinque si dà delle giustificazioni plausibili del suo delinquere, arrestai un rapinatore che riteneva nobile la propria azione perché era corretto vendicarsi nei confronti di una banca che gli aveva pignorato l'attività per rientrare dei debiti che lui stesso aveva prodotto con il gioco d'azzardo. E aveva deciso da quel giorno di rapinare esattamente quell'istituto tutti i giorni. E lo rapinava armato. Se l'era scelto senza guardia giurata proprio per non rischiare di dover sparare, ma una volta fece una rapina a una banca di fronte a un istituto bancario con guardia che sparò e lui sparò contro senza prenderlo, ma da lì scattarono le ricerche e fu arrestato. E lui giustificò il suo delinquere perché per lui era diventata una ragione di vita, era diventato normale. Questi dicono so che è sbagliato ma è così, ma questi stanno rovinando il mondo. devono scattare le manette. Devono scattare le manette. Non si può accettare una situazione del genere. Covidiani, svegliatevi. Devono scattare le manette. Al prossimo video. Grazie. Grazie a tutti.